Eccoci, sei stata l'unica persona a far zittire Zannotti proprio, appena anche sua madre mi è riuscita. No, ecco. Una cosa impossibile togliere la parola a Zanna quando parte. Zanna Bianca quando comincia a mitragliare è una K47. Ma sai cosa, è una prerogativa dei vecchi. Sai quando proprio narrano le dicezioni, quando parte e finita. Sì, sì. Madonna. In effetti sei il vecchio dei tre, eh? Madonna, cazzo, veramente. Tipo Nestore nell'Iliade, capito? Cioè, delle robe assurde. Ecco, vedi già i paragoni che fa, che fa riprendere l'Iliade, proprio. Sì, eh? Vado a fondo, grazie. Saluto a un uomo del libro, figlio. Uh, grazie, grazie. Madonna, adesso appena arriva, lo prendo, sono curioso, figlio. Ho visto lo sfogliare, sono curiosissimo, figlio. Ecco, questa è l'altra cosa che devo togliere in registrazione. Ah, merda. Faccio, faccio... No, però sì, 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 sì. Credo che in questo momento ci siano... È una di quelle cose che purtroppo in Italia ti fa attirare più odio che pacche sulla spalla. Quindi... Oppure attira falsi come in cima. È quello il bello, capito? Eh, purtroppo, vabbè, però l'importante è che, anche se le pacche sulle spalle sono di meno, però, se sono sincere, comunque, appena lo leggo, poi ti dico anche la mia. Sì, sì. Però sono sicuro che sarà una cannonata bellissima. Vediamo. Ho visto già alcune piccole cose e sembra una figata, davvero. Guarda, il punto era proprio quello di dare un ordine sistemico, ma soprattutto di fare una cosa che potesse essere rivolta a un altro Ludovico, ok? Quindi, volevo un libro che, se l'avessi letto come lettore, avrei detto, cazzo che figata, cazzo adesso ho capito tutto quanto, adesso mi riesco a districare, posso avere una visione... Cioè, qualcosa che potevo apprezzare, ok? Quindi è più rivolto a me stesso, diciamo, talmente. Io tutto quello che faccio lo ragiono sempre così. Per questo faccio poi soltanto cose in cui vedo che c'è, tra virgolette, una lacuna. Cioè, qualcosa che dico, ci starebbe bene un libro che dà un ordine sistemico, ci starebbe bene un corso che fa questo, un sito che fa questo. Allora, prendo e lo faccio. Quindi spero che... Vediamo, vediamo. Io ovviamente voglio sempre critiche... No, no, di sicuro. Critiche sincere e spietate, perché sono quelle che fanno crescere di più. Ma è sulla periodizzazione? Questa prima... Questa periodizzazione? Questo primo volume, sì. Quali tipi di ipertrofia? Allora, prima parla dell'ipertrofia in generale, quindi spiega tutto quello che è l'ipertrofia, cioè che cos'è esattamente, che cos'è che provoca l'ipertrofia, perché da una ripetizione X tu hai un adattamento ipertrofico del tuo corpo. Cos'è che succede? Poi spiega tutte le differenze tra i diversi distretti muscolari, quindi dei brevi scenni anatomici, ma soprattutto perché ogni distretto va allenato in maniera diversa, come va allenato, perché risponde a determinati stimoli, cose che poi si fanno da sempre nel bodybuilding. E questa è la cosa bella, no? Che io ti spiego perché quello che da sempre si fa nel bodybuilding viene spiegato in maniera scientifica e è così, effettivamente. E poi c'è tutta la parte dedicata alle variabili e ai parametri di allenamento, quindi inizia a parlare proprio di periodizzazione, programmazione di allenamento, e là, secondo me, il bel valore è che si dà un ordine sistemico, perché tu apri qualsiasi cosa e inizi a sentire serie, ripetizioni, cute, frequenza, split, e bene o male ognuno te la spiega in maniera diversa, quindi non c'è mai una visione sistemica del capire cosa avviene prima, come sono correlate le varie cose, eccetera, eccetera. Quindi là ti do un ordine sistemico in modo che tu qualsiasi cosa leggi, qualsiasi cosa approfondisci, quando devi strutturare un tuo programma, eccetera, hai già un ordine, è come se io tutti i fogli che tu hai nel tuo cervello te li vado a catalogare bene in armadietti, ben precisi. E poi l'ultima parte è proprio nel concreto la programmazione di allenamento, quindi come strutturarla, come può essere fatta, ed è tutto sempre diviso tra, per ogni cosa, è sempre neofita e intermedio avanzato. E la cosa bella che dico io è che nel bodybuilding ci sono tantissime regole, così tante che poi alla fine puoi far tutto e tutto funziona, l'importante è che tu lo faccia con logica, quindi si tratta di capire la logica che c'è di base. E infatti il secondo volume, che è quello in cui parlerò di tutti i sistemi di allenamento che sono stati proposti nella storia, li spiegherò nel dettaglio, ci sono anche tantissime deroghe al primo volume, cioè cose che dici, ma come io ho letto questo, allora perché questo funziona? E vado a spiegare perché funziona in realtà, perché c'è la logica sotto. Quindi è tutto un percorso che ti permette di avere poi gli strumenti di capire un po' tutto quanto. È come Chemical Muscle Enhancement e costruire la bestia perfetta. Esatto, però non voglio farlo. È presente? Che poi forse... Che poi forse... E vedi, ecco, vedi, ebbè. Ma infatti raga, ma quei libri sono molto meglio di molti degli attuali, perché molti degli attuali sono un ammasso di informazioni presi dalla scienza e altro, però poi non ti dicono come metterle in pratica. Cioè, ecco perché l'ordine logico che tu dai è importante anche, soprattutto per i principianti, c'è uno che legge, ci sta la teoria, però ti dà duemila formule, poi dice sì, ma dipende, sì, ma dipende. Uno che non ne sa un cavolo di suo sport è in netta difficoltà. Il dipende, va bene, è vero, va tutto soggettivizzato, però anche solo avere un'idea da dire, ok, vediamo questo come struttura in allenamento per le spalle con questo metodo. Ok, così. Poi se tu non senti il lento avanti bilanciere, ma senti meglio il lento manubri, al posto di mettere il lento avanti bilanciere, ti metti il lento manubri o metti più alzate, quello che è, però almeno hai una struttura di riferimento. Ah, è una bellissima idea. Ma infatti sai, come detto anche tu, comunque la gente alla fine vuole vedere la concretezza, la praticità, perché ci sta la parte teorica, come detto anche tu, dove spieghi i vari discorsi, i vari muscoli così, però poi se alla fine uno mette qualcosa di pratico, da poter provare perché no, capire ed elaborare, è inutile. Come i vari seminari che propongono tanta teoria, sì, ma mettimi l'esempio di una scheda, capito, perché altrimenti è quello il bello alla fine, cioè come noi penso che quando leggiamo comunque un libro, poi comunque alla fine vogliamo andare comunque al sodo, sì, la teoria, che bene o male in teoria dovremmo sapere un po' tutti, però il problema è la pratica, quello che la gente compra anche i libri, quello sarà interessante. Allora non vedo l'ora di leggerlo, poi faremo una puntata solo per commentare, critiche proprio la manetta di un libro. E quindi oggi classic? Classic, parliamo di classic. Allora, come state, carichi? Anche perché il classic è un po' il punto nevragico di questo prossimo Olimpia, no? Eh sì, è. Allora, dipende sempre anche negli open, questo punto di domanda, Philit, come arriverà, come non arriverà dopo due anni lontano dai Paichi, secondo me tanti che si stanno facendo delle aspettative assurde, devono andare calmi, perché due anni lontano dai Paichi, con il problema che aveva avuto all'attome, non è una cosa semplicissima tornare ai livelli di un tempo, anche perché il Philit del 2011 non era di sicuro, il Philit poi rivisto appunto negli anni 2016-2017, insomma, eh, per tornare come 2012, 2013, 2011, quello che è, ce ne vuole. Vediamo. Vabbè, al contrario di allora, magari adesso non ha quei super avversari che magari un tempo c'erano. Però vediamo, vediamo, vediamo. Nei classic invece sarà una bella rotta. Aia. Bene. Allora, parlando di classic, categoria sempre estetica, no? Considerata. Ok. Un mix, secondo me. Ok, vi faccio subito una domanda. Muscolare, sì. Differenza tra classic physique e classic bodybuilding? Che mi sembra c'è soltanto i Fit Italy. Esatto. Che il classic bodybuilding non è mica l'XHP? Esatto. Ha cambiato nome, perché c'è sempre il costume comunque a mutanda, quindi il classico slip, e sarebbe l'originario HP. Infatti in Fit Italy ci sono gli Easy HP, che sono due categorie molto, molto leggere. Poi c'è i classic bodybuilding, che sono gli HP di un tempo, che ha cambiato semplicemente il nome, diciamo che equivale al body evolution del due torri, se vi ricordate. Quindi molto, molto tirati, anche lì soggetti a categorie di peso, e poi si parte con le categorie di peso del bodybuilding. Quindi... Ecco, HP, per chi non lo sapesse, è altezza-peso. Quindi nel senso, il rapporto tra altezza e peso, se uno è alto 1,70 m, ci sono alcune federazioni che HP ritengono HP zero, quindi se è alto 1,70, uno può pesare al massimo 70 kg. Alcuni lasciano anche il margine, magari di 3 kg, quindi magari possono pesare 73 kg. Cosa che invece, che nel classic physique, le tolleranze sono un pochino diverse, più alte. Però ecco, HP vuol dire quello altezza-peso. Che può essere anche HP più o HP meno. Cioè, ad esempio, in federazioni natural HP è 0, meno 3, meno 6, meno 8. Ormai ci sarà anche meno 14, tra poco, secondo me. Ma veramente, ragazzi. No, ma praticamente i classic bodybuilding... La teoria deportati, però. Ecco, giro. Ah, dai, meno 6. E' sempre bodybuilding. Ma guarda, nel classic bodybuilding, in pratica di classica, sono il nome, ma è un HP a tutti gli effetti, quindi con il costumino da bodybuilder, dove i tiraggi la fanno da padrone. Questo è... Che ad esempio in PC... E lì si presentano veramente tiraggi assurdi, cioè proprio... Ma anche perché comunque è proprio anche un metro di giudizio nella categoria alterna. Più importante, credo. Più relevante. Esatto. Magari al posto di avere rotondità, linea, masse muscolari, se arrivi con il gluteo super mega striato, striatura ovunque, pelle, cioè solo e esclusivamente pelle e muscoli. Cioè che comunque non tantissimi ovviamente, ma proprio perché è una questione di... Cioè se uno è alto 1,70 e deve pesare 65 kg, ovviamente non può avere una montagna di muscoli addosso, però deve portare un tiraggio veramente estremo. Cioè quindi chi fa classico bodybuilding, appunto il vecchio altezza peso, deve arrivare spellato. C'è gente che vuole fare altezza peso, soprattutto magari in federazioni supportate, diciamo, in cui si va... per la maggior parte sono supportati gli atleti, cioè bisogna arrivare veramente scannati. Ma scannati, scannati. Sì, anche a costo di andare a catabolizzare, andare comunque brutti, senza muscoli, ma... Che secondo me non ha senso, eh. Cioè mio parere personale arrivare troppo tirati, ma non avere quasi più muscoli addosso, a questo punto, boh... non è bodybuilding. Non vedo il senso, il mio proprio gusto personale, eh. Ok. Per come vedete il bodybuilding. Passando a parlare del classic physique, quindi, che, diciamo, è il classic in pro league. Vai. Criteri, quello che si ricerca, descrivi un po'... E' sparito Giuseppe? E' sparito? Giuseppe! Ah, ecco, ecco. Lo vedo un po'... moggio oggi. Si sta tenendo. È diventato tutto nero. No! Infatti ve lo senti un attimo, Marco, cavoli. A meno, ovviamente, la tua idea, diciamo. Allora, classic physique, adesso, è la categoria che va per la maggiore. Nel senso, è diventata di moda. Secondo me è diventata di moda per il semplice motivo che... Ma no perché sono classic io. Però dal punto di vista... Ecco, scusami, diciamo, Marco è professionista classic, per chi non lo sapesse ancora. In pro league. In pro league. Diamo a Cesare quel che è dicendo. è un orgoglio, dai. Vabbè, comunque, è un po' quella categoria che va per la maggiore, che va di moda, no? Tutti adesso vogliono fare il classic physique. Che bello, voglio fare classic physique. Va bene. Però, è magari appunto perché un po' rispecchia quello che sono i canoni dell'estetica, quindi il fisico perfetto da statua, tra virgolette, quindi tiraggio, che adesso stanno arrivando anche tiraggi estremi, linea, proporzioni, simmetria, rotondità, posing, comunque di un certo tipo, perché comunque dopo se ne parlerà e ne parlerà il maestro, di posing classic, che è una cosa totalmente diversa dal posing, dal bodybuilding, e c'è da far chiarezza. in più appunto alle masse muscolari, quindi simmetria, masse muscolari, posing, quindi teoricamente è proprio il fisico perfetto, E quindi tutti andiscono a dire cazzo voglio fare classic. La cosa che però tanti non capiscono è che comunque è la categoria più difficile per tante piccole cose, secondo me, nel senso, c'è da portare un tiraggio estremo perché adesso comunque i canoni sono cambiati all'inizio il classic physique rispecchiava appunto, di più nasce come categoria che deve rispecchiare. I fisici anni 70-80. Esempio, Arnold Schwarzenegger, Frank Columbo, Frank Zayn, eccetera, eccetera, eccetera. O magari anche di un pochino prima, quindi non avevano tiraggi così estremi come poi invece si sono cominciati a vedere a fine anni 80 e inizio anni 90. Però ecco, sei partiti da lì ma adesso si sta andando comunque molto a aumentare quello che è proprio la condizione, quindi estremizzarla. E mi sono perso, cazzo. Giuse, aiuta, mi sono perso. Ok, ma scusami, ci sono. È nato appunto per questo, non rispecchiando quei fisici, solo che appunto adesso si è estremizzato anche quello, quindi bisogna portare linea, simmetria, rotondità, estrema condizione, ma rispettando la toleranza di peso. Quindi, non si può arrivare come nel bodybuilding per esempio, open, a pesare tanti chilogrammi, quindi con tante masse muscolari, eccetera, ma bisogna stare attenti anche a rientrare nella categoria di peso, ma bisogna stare attenti anche a non andare troppo sotto la toleranza di peso, perché tanti HP o comunque tanti che vengono dal bodybuilding, appunto, altezza peso, eccetera, vogliono buttarsi nei classic, il problema è che se sei abituato a gareggiare, un metro e settanta per settanta chili, sai che se vai per esempio in pro league, un metro e settanta poi hai il limite di 83 chili. È classic, qual è il limite della tolleranza peso? HP più 10 con margine di tre, giusto? Dipendo dall'altezza. Io per esempio che sono alto uno settantune e mezzo, avevo il limite da amateur a 83. Ok. Poi ci sono quante categorie della classe A alla classe E se non sbaglio? No, dipendo, adesso calcola che stanno facendo solo classe A che è sotto centosettanta centimetri, classe B che è da centosettanta a centosettantotto centimetri e classe C che è da centosettantotto in sci. Poi dipende, ci sono magari se sono gare con molti atleti magari possono fare anche più divisioni, però di base adesso sono sempre solo quelle tre. Ma vedi, come hai detto tu Marco, mi allaccio al tuo discorso, la categoria classic physique secondo me almeno, poi mi direte la vostra, è la categoria negli ultimi anni più malinterpretata da tutti, cioè da atleti, giudici e da esperti anche. Ma perché? come avevamo detto nel vecchio podcast comunque la categoria classic physique innanzitutto dove nasce? Dall'esigenza di dare un freno al bodybuilding perché i bodybuilding soprattutto negli open stanno andando oltre, come avevamo detto l'altra volta criticato asperamente da Schwarzenegger che non voleva più gli spanzamenti addominali, di conseguenza per far riappassionare al bodybuilding la massa hanno creato questa divisione che andava più verso l'estetica, quindi come ha detto Marco appunto i fisici di una volta. Il problema qual è? è che questa cosa ha creato un po' di, come dire, di confusione nei ragazzi, cioè loro pensano e lo pensano tuttora che il classic physique sia semplicemente un bodybuilder più ridimensionato, ma ridimensionato nel senso un po' meno tirato, un po' meno grosso, un po' meno. e chi la vede in questo modo non ha capito niente del classic physique perché come ha detto anche Marco prima il classic physique è la categoria più difficile da preparare innanzitutto perché ci vogliono come, diciamo che per me equivale come interpretazione sbagliata presso il pubblico come le bikini, ok? Il classic physique per me è la bikini al maschile nel senso è difficilissima come te mi stai dando della bikini in poche parole. Però il tuo ce l'è meglio di affrontare i bikini quindi assolutamente sì. però ti dico il classic physique innanzitutto impone dei requisiti di base mostruosi che non tutti hanno cioè mentre nel bodybuilding se sei comunque proporzionato grosso tirato vai sul palco ti piazzi ok? Nel classic physique oltre a questi requisiti ti vuole innanzitutto come ha detto prima Ludovico l'estetica cioè sono quei fisici che a livello di forme rotondità o come dico io la plasticità muscolare devi essere bello cioè devi essere come ha detto Marco prima una statua e non è una frase fatta ragazzi io vedo molti ragazzi adesso che non sarebbero buoni neanche da HP fare classic physique ma se non sei tremendamente bello ma non bello di viso perché il viso nel classic non conta ma a livello di tipico come rotondità proporzioni plasticità e soprattutto se non stai bene nella versione classica del posing sei rovinato non sarei mai un classic physique ti faccio una domanda Giuseppe anzi ve la faccio a tutti e due io ho questa impressione e l'avevo detto anche nelle prime dirette che il classic come anche altre categorie rispetto al bodybuilding quando si parla di estetica si parla di un determinato tipo nel senso nel bodybuilding tu hai l'estetica alla Branch Warren l'estetica alla Philips l'estetica alla Sean Rothen che sono forme diverse e tu puoi verosimilmente vincere realmente avendo conformazioni diverse ok viceversa il classic deve essere quello cioè non esistono tante diversità tante cose non devi avere né v-shape super estremi almeno secondo me alla Memphisic perché comunque considerando anche le gambe esce un effetto clessidra che poi può risultare sgradevole e al contempo però non puoi essere tra virgolette tozzo cioè mentre può essere bello un bodybuilder tozzo il classic no deve essere quell'estetica è un Jay Cutler è stato uno dei migliori bodybuilder di tutta la storia tra l'altro una persona d'oro io l'ho conosciuto a Miami quando ero là sono stato là appunto tre mesi a Miami e l'ho incontrato per strada è veramente una persona non squisita di più cioè siamo fermati a parlare dieci minuti per strada cioè un contempo è quando vai alle fiere e parli con i vari bodybuilder perché sono allo stand e sono previvendo obbligato lì era in giro mano nella mano con la sua ragazza a camminare eppure si è fermato a parlare eccetera eccetera comunque lì è stato uno dei migliori bodybuilder della storia veramente ma è anche un grandissimo imprenditore adesso che si è saputo muovere anche nel post carriera da bodybuilder agonista ma la classic physique non avrebbe potuto fare nulla per la struttura fisica che ha comunque un bacino largo una vita comunque già larga di suo estremamente massoso perché comunque per detta sua ha dovuto raggiungere anche certe masse muscolari perché doveva contrastare quello che era il Ronnie Coleman di un tempo cioè o portava masse muscolari di un certo tipo oppure sarebbe sempre arrivato secondo invece dopo è riuscito appunto a batterlo però nel bodybuilding ha portato a casa quattro olimpio tra l'altro l'unico a riconquistarlo dopo averlo perso ancora adesso nella storia però c'è un grandissimo bodybuilder ma come classic non avrebbe potuto fare chissà cosa cosa che invece magari per esempio uno Sean Roden se fosse stato ridimensionato che poi bisognerebbe sempre vedere se riuscire se riuscirebbe a rientrare nella tolleranza eccetera però quello è già un fisico che rispecchia più ha già una dote genetica strutturale fisica e scheletrica che poteva magari permettergli anche di fare un classic un Jake Adler no ma infatti sai cosa raga adesso ci crea questa grandissima confusione anche sui media perché ci sono molti bodybuilder tipo un Patrick Moore uno Sean Roden definiti bodybuilder estetici quindi ovviamente non così pesanti terribilmente estetici e io sento molti esperti del settore dire ma se solo facesse classic occhio però aspetta ecco un come ha detto Marco uno Sean Roden un Patrick Moore o anche un Brandao perché comunque stiamo parlando di atleti estetici per me comunque non potrebbero essere dei classic perché dipende cioè non è detto che uno sia un bodybuilder un po' più piccolo un po' più bellino lo metti nei classic perché mancano comunque degli elementi particolari infatti l'ho detto cioè dovrebbe riuscire anche a rientrare nella tolleranza Sean Roden perché magari perdendo muscoli in alcuni distretti per rientrare nella tolleranza sarebbe un classic ma non così bello come se invece l'etapa di builder esatto e a proposito di questo cosa importantissima è la tolleranza di peso allora partiamo dal presupposto come ha detto Ludovico che si tratta di una categoria estremamente estetica ok dove la rotondità la plasticità la bellezza la fa da padrone il fatto di ingabbiare questo concetto cioè di estetica in scale numeriche per me è una grandissima cazzata perché se io sono bello rotondo a quel peso con il massimo potenziale e tu mi costruisci a perdere 5 kg per rientrarci capisci che è una fregatura cioè è un controsenso in realtà avrebbe più senso fare due categorie di altezza alte e basse tali dei classic e poi ognuno se la gioca col suo massimo potenziale infatti Marco lo sa meglio di me perché sappiamo per entrare comunque nel peso non è mai facile ognuno va a denaturare un po' quello che è la natura del proprio fisico e di conseguenza già il fatto di ci pensavo l'altra volta ingabbiare dietro a scale numeriche il concetto proprio di bellezza estetica è una cazzata perché appunto nei menphysic per esempio non c'è quella cosa altrimenti molti menphysic se non lo stanno in categoria di peso farebbero cagare letteralmente è brutta infatti una cosa che dovrebbe passare è che il peso è molto individuale infatti quali sono i migliori HP sono quegli atleti che sembra che pesino 100 kg e ne pesano invece 70 quelli sono l'HP perfetto perché vanno l'HP0 lo guardi e dici cazzo questo pesa 100 kg almeno e viceversa ci sono atleti che sembra che pesino non lo so 70 kg e in realtà ne fanno 100 quelli sono tosti perché mi ricordo qualche tempo fa è uscito un iraniano mi ricordo su che post comunque su Facebook ho visto di questo iraniano e la gente chiedeva secondo voi quanto pesa la maggior parte le persone sotto 90-95 pesava 72 kg era tutto rotondo c'è veramente è una roba fuori al normale ovviamente non sarà stato un metro e 80 però ha gareggiato mi pare appunto una categoria meno 75 kg e sembrava veramente un open quasi non un open perché chiariamoci però un fisico assurdo e pesava 72 kg quindi quelli sono i veri e capi come dice Ludo ma poi sai Ludo anche io lo dico sempre a molti ragazzi classic per me è una religione cioè non è una categoria del cavolo dove basta rientrare nel peso tu devi essere classic proprio nello spirito ecco perché quando vedo molti BB tra virgolette regredire un po' cercando di rientrare nei classic ragazzi è un altro mondo cioè non è come la come la bikini e la wellness sono due mondi diversi i classic e il bodybuilding sono due cose diverse per esempio come poi diremo anche nel classic il posing che comunque devi beccare il soggetto predisposto a quel tipo di posing e io negli ultimi anni per fortuna posso dire veramente di aver visto i più forti Ludo ma solo io sento Giuseppe andare a venire con la voce io adesso mi senti te io tutto bene tutto a posto tutto bene tu Marco sento andare a venire tutti e due la voce di entrambi quando parlate aspetta che metto al massimo il volume no non è il volume provo a mettere un po' meno no no proprio si ferma l'immagine e va e viene come se fosse ho provato a diminuire la mia risoluzione così dovrebbe essere più facile la connessione volevo essere più definita capito a noi ci lascia tutti quei pixel così che ci muoviamo così e invece un livello definito dai ma non mi vedi ho pure il microfonino sono super professional dai è il padrone di casa giusto ma ragazzi scusa dicevi Giuseppe per quanto riguarda anche il posto non è una questione di anche studiarlo non mi diverte che lui lo fermi lo riaccendi come che metti play riparte non si perde minimamente sì 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 no perché io prima mi sono perso durante hai visto io mi sono perso durante il discorso perché avevo messo insieme troppe cose lui invece lo stoppi dopo due ore fantastico 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 my god mi dicevo comunque sai anche il discorso del posing del classic è molto molto difficile nel senso che io vedo molti classic adesso anche a livello internazionale anche dei pro posare molto male cioè alcuni arrivano dai pro card importanti ma posare da bodybuilder e quindi capisci che anche lì sei un po' traviato lo spirito del classic cioè il classic deve posare veramente deve essere completamente plastico nel posing questa cosa qua ce l'hai di natura non solo ti deve piacere posare perché la maggior parte dei classic ho seguito ho tolto Marco che posa di notte ma lui è una razza a parte molti classic odiano posare cioè devi costringere a posare e se già quella cosa non ti viene sul palco lo trasmetti cioè è una cosa incredibile quindi diciamo che anche lì nel tempo si sta dando troppa importanza anche lì alla condizione piuttosto che è il posing cioè io preferisco un classic duro ma duro giusto non come ultimamente stanno spingendo molto sui tiraggi ma che comunque deve posare infatti con Marco ne parlavamo un'altra volta quando lui divenne pro in Polonia aveva di contro due atleti giganteschi ma in molte pose semplicemente non erano in grado di eseguire quella pose in modo classico ma perché o perché non hanno studiato oppure lo snobbavano tanto probabilmente davano molta importanza alle masse ai tiraggi ma messi su un palco con uno come Marco che comunque era un po' più piccolino ma condizione da paura massa in relazione al suo peso corporeo perfetta posing impeccabile lì vedi proprio il vero prodotto da classic physique contro uno che sta giocando a fare i classic il problema è che nel classic non è bodybuilding cioè o sei un classic lo reciti bene la pa o reciti bene la tua parte altrimenti se ti trovi di fianco a uno tremendamente classic fai una figura di merda cioè quello è il concetto io ti spezzo una lancia eccola che vai 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 Ludo no veloce ti spezzo una lancia in favore per farlo capire anche ai ragazzi in favore alla NBB perché io ho portato un ragazzo due anni fa quest'anno stop covid quindi l'anno precedente all'italiani mi ha fatto alle selezioni mi ha fatto secondo posto e mi hanno detto col giudizio tutto giudice dicono guarda poteva fare primo posto ma era emozionato sul palco sul classic no il classic deve dominarlo il palco deve essere sciolto e lui si rifugiava sempre un po' nelle stesse pose e gli sono scappate una o due pose da bodybuilding e le mi hanno detto queste no è stato fatale è stato fatale è stato fatale e così dovrebbe essere ma sai Ludo per quanto riguarda sempre il posing cioè mentre nel bodybuilder nel bodybuilding quando tu comunque non posi sai tu sei fermo è stato affrontare bello duro impostato il classic è proprio veramente un modo di concepire il posing anche quando tu carichi le pose il modo di muovere le mani là fa la differenza tra un grandissimo classic e uno che gioca a farlo a maggior ragione è ancora più difficile mentre il bodybuilder può rilassarsi può stare morbido oppure può caricare con violenza le pose il classic c'è un modo proprio di incantare la giuria di muovere le mani soprattutto poi quando si va in ottica di routine che fa la differenza ti chiedo una cosa per capire perché anche qua mi sono perso allora quando tu dici che un bodybuilder che sia anche molto estetico non è detto che se rientra in categoria peso allora sarebbe un buon classic quali sono le differenze al di là del posing le differenze proprio allora io per quanto riguarda me da quello che vedo perché ho visto diverse federazioni sia natural che supportate tra cui professionisti per me la plasticità ecco la plasticità è soprattutto la capacità di muovere l'anca occhio la capacità di muovere l'anca sono i due criteri fondamentali di un classic mi darete del pazzo per quanto riguarda l'anca ma un classic non deve assolutamente posare dritto rivolto alla giuria deve ammorbidire il suo tronco è una cosa molto particolare ecco perché un atleta anche estetico ma molto rigido non sarà mai un ottimo classic o almeno può arrivare a una pro card ma poi nel professionismo la vedo grigia ecco per esempio se tu vedi un Patrick Moore questo esempio stupido è un Rafa Brandao sono bloccati sull'anca cioè non riescono a sfiancare il cosiddetto twist del mente zik eccolo può essere ecco per esempio un sadik ecco guarda sulla parte sinistra la sua anca destra quindi la parte sinistra dello schermo guarda come si ammorbidisce sull'anca sadik è furbo non è stupido infatti il suo poso in coach è il mio referente agli Stati Uniti lui ha il busto molto lungo se lui restasse dritto sarebbe rovinato invece scazzandosi come dico io sull'anca crei quell'effetto quella curvatura guarda sul fianco sinistro che determina proprio quella plasticità muscolare ok ed è fondamentale Ludo Ludo vai su vai su Terence Raffin per piacere Raff Diesel su Instagram esatto lui per esempio è il miglior quotatore al momento nei classic esatto eccolo qua vediamo un po' se c'è una questi sono un po' di scatti che fa con Bennett lui è seguito sia da Bennett che da Meadows quindi proprio a parte che è trasformato cioè ha fatto una metamorfosi infatti questo giro sarà molto più duro molto io guarda sono curioso io a lui lo aspetto al barco sempre nella back double biceps perché la posa di schiena lui perde tanto rispetto ai top contender adesso poi lo vedremo in line up con gli altri però lui ha una forma strana di schiena che non è completissima da quel punto di vista ecco lui per esempio appunto lo ricordiamo all'Arnold cioè quando riguarda le routine lui è uno di quelli che cosa ti emoziona cioè anche quando fa le routine ci minchia cioè ti fa venire proprio la pelle d'oca secondo me le routine di un classic anche un po' di bimbo siamo chiari però le routine di un classic possono farti venire la pelle d'oca secondo me perché devono proprio trasmetterti arte ecco infatti dicevo la doppia bicipita è quella lì dell'Arnold quella sotto esatto ecco qui se tu vedi come è messa la gamba l'angolazione della sfiancatura è qualcosa di tremendamente studiato da notare anche la simmetria dei gomiti i gomiti non sono simmetrici ragazzi quella posa lì oltre a starci bene devi studiarla ma i centimetri di quella posa ecco perché quando sento molti classic pensare solo alla condizione le masse soprattutto in Italia nel classic io sento continuamente dire eh no ma era condizionato ma era grosso ragazzi non è quello perché potete fare tutta la dieta il cardio l'anelamento che volete ma vedi questa posa qui è qualcosa di mostruoso cioè è quello un classic poi sembra facile che dici vabbè mi metto così ma è tremendamente difficile poi sai sul palco facci caso le pose frontali del classic dalla rilassata frontale nelle altre dopo i bicipiti addome e gambe sono tutte sfiancate neanche è tremendamente difficile beccare l'inquadratura rispetto al tavolo dei giudici quindi voi immaginate apparire dritto al capogiuria e contemporaneamente sfiancare è difficilissima cioè quindi esatto ragazzi datevi al posing ma molto seriamente perché altrimenti è finita nel quattro guarda esatto vedi anche ne parliamo anche con Marco in occasione della Polonia quando si trattò di modificare un po' la posa di schiena e si trattava di rendere anche il doppio bicipiti di schiena un po' classico se voi vedete qui sta sfiancando sull'angra sinistra non è dritto ovvio che ovvio che ci vogliono delle masse delle proporzioni un grandissimo tiraggio perché ovviamente ecco perché vi dico che ci vogliono anche delle caratteristiche genetiche di plasticità muscuare che la genetica ti dà per fare il classico perché se uno si mette se uno che è liscio e non ha quelle forme come Terence sfianca nel doppio bicipiti di schiena e liscio come una patata quindi ecco la differenza anche esatto guarda guarda incredibile cioè guarda con la sinistra sembra un bodybuilder a destra ne parliamo e sta sfiancando lo stesso un pochino leggermente ma non è così scazzato come dall'altra parte esatto però vedi è proprio anche a fronte ai giudici gambe larghe accenna un minimo però vedi è tremendamente difficile poi ovvio ragazzi c'è il tuo discorso che sul palco ci può andare chiunque occhio ecco perché io dico ragazzi non copiate il posing dei pro anche perché adesso c'è di moda copiare le pose di Chris Boomstead sì ma ragazzi lasciate stare penso addardate ma poi sai ci sono molti ragazzi che sono convinti si piacciono in quella posa sono contento mi fa piacere questa cosa ma i giudici poi la vedono in modo diverso cioè ci vuole un attimino un occhio esterno che mi dice ragazzi non fate quella cabolata cioè ripeto come ho detto Marco prima è la categoria che adesso va più di moda nelle categorie maschili perché obiettivamente diciamo che l'obiettivo dell'IFBB di far riappassionare il pubblico grazie ai classic sta funzionando sì però bisogna mettere un freno nel senso ci sta a vendere una categoria come molto bella commerciale ma tra il dire e il fare c'è di mezzo la genetica la preparazione il freno è di far capire logicamente tramite le premiazioni che se premi una determinata tipologia di fisico con un determinato posing eccetera chi poi logicamente vede che non si non si rivede in quelle caratteristiche sta a lui comunque dire no forse ho sbagliato mi devo dare ad altro un'altra categoria da dire ok vado a fare HP o vado a fare comunque categoria di bodybuilding però il classic secondo me fa bene anche da approcciarci perché ci sta a provare nella vita io comunque tutte le volte che ho provato qualcosa ho sbagliato ho imparato qualcosa ho detto ok non è la mia via giusta in testardirsi non va bene cioè se sai comunque vai in una gara e ti mettono esimo in un'altra ti mettono esimo esimo non ti piazzi mai allora è un motivo di operare ok quindi uno dice io provo e fa bene a provare perché comunque ci sta sarebbe comunque anche compito dal coach indirizzare e dirgli guarda secondo me o comunque secondo i canoni tu comunque non sei un ottimo classico un classic vincente però se comunque uno vuole in testardirsi vuole farlo eccetera ok tu prova perché il provare ci sta poi logicamente sta a te a vedere e renderti conto che se non è la tua categoria di farti da parte in quella categoria e darti comunque ad altre categorie che ci sta quindi la scrematura secondo me la fanno poi alla fine i giudici e le gare mettendo da parte logicamente chi magari non è portato per quella categoria e ripeto magari sono atleti bellissimi in altre categorie magari un bodybuilder molto forte c'è anche vincente si approccia al classic e viene messo fuori dalla finale alla stessa gara magari fa bodybuilding cazzo vince l'assoluto cioè quindi anche lì uno sta solo uno che logicamente butta dentro la palla giocando a calcio fa l'attaccante se invece logicamente ti metti in porta e prendi 20 gol a partita vuol dire che il tuo ruolo non è il portiere se segni tanti gol fa l'attaccante stessa cosa nel bodybuilding da te a trovare la categoria in cui sei più vincente poi non tutti sono da mister olimpia quindi non tutti sono da champions league da mondiali rapportato al calcio però comunque uno sa che può dare di più a fare il bodybuilder fai bodybuilder se sai di dare di più a fare classic fai classic però sta comunque alla giuria a fare la scrematura secondo me ma poi Marco vedi anche te Ludo comunque soprattutto quest'anno abbiamo visto questo innalzamento questa variazione dei criteri iniziali dei classic ma infatti guarda ma adesso veramente la gente anche nei classic è ossessionata dalla condizione dalla durezza ma io mi ricordo anche nel caso di Marco comunque che a San Marino Cup vinse l'assoluto quando si andò poi ad Alicante anche ad altre gare internazionali comunque sai chiedevano un po' se non sbaglio più durezza addirittura sulla contrazione delle gambe infatti noi lavoravamo sul posing proprio per far apparire quelle gambe tirate cioè quel dettaglio in più però vedi lui partendo dal presupposto che posava già molto oltre la media ok molto meglio di molti però vedi la richiesta non era il posing era il tiraggio quindi sai anche lì capisci che loro comunque cercano di buttare su il livello delle volte devi uscire fuori con un posing classic quello che mi hanno richiesto loro quindi è tremendamente difficile cioè loro non è che hanno detto stendi la gamba vogliamo vedere due righe ma fregatene del po' no no loro volevano comunque la posa classica quindi estremamente plastica estetica con le righe e capisci che è un lavoro tremendo per quanto riguarda l'atleta il coach e il posing coach ci vuole una comunicazione mostruosa dopo spezzo una lancia per quanto riguarda invece la pro league perché perché in polonia quando appunto sono andato a prendere la pro card all'assoluto ero contro due ragazzi tra l'altro fortissimi Adam Bomert che tra l'altro è diventato pro in Romania e ha fatto nono nella gara professionistica quindi ha fatto top 10 quindi non è l'ultimo arrivato e l'altro invece un ragazzo rumeno Aleksandru Roberto tra l'altro non è ancora professionista ma veramente c'è pure in Adalicante c'era? in miseri sì Adalicante non mi ricordo non mi fare però non aveva fatto classico di sicuro Alexandru Roberto o forse aveva fatto un po' di building però non so se c'era ad Alicante sai lui calcola che è di meno 26 anni è giovanissimo ha una struttura fisica assurda cioè veramente grosso è alto un metro e 87 e mezzo e sul palco pesava 108 chili non si sa come abbia fatto salire a 108 chili perché teoricamente era fuori categoria cioè fuori categoria fuori tolleranza però c'è salito quello ne sono sicuro esatto lui bellissimo atleta tra l'altro lui è rumeno ma si allena e vive a Dubai Dubai o Kuwait aspetta non mi pare Dubai ah non c'è scritto qua da qualche parte dai comunque calcola che lui era 108 chili sul palco per un metro e 87 e mezzo quindi la B1 Gym sta a Dubai a Dubai ed era quindi allora alla pesa è stato pesato 108 chili io alla pesa ero 82 quindi calcola che la differenza era di 26 chili mentre l'altro ragazzo Adam ha in pesa molto probabilmente per la sua testa doveva essere 96 quindi avevo metti che poi sul palco sono salito sugli 84 e mezzo con appunto la giusta ricarica poi avevamo due giorni di ricarica e mezzo addirittura ad Alicante 3 quindi è anche stato vantaggioso quella distanza ovviamente perché uno può gestire la ricarica in modo diverso salire più pesante e gestire in modo molto migliore però quello che sto dicendo appunto era 96 chili uno 108 l'altro io in pesa 82 e io ho visto i cartellini dei giudici avevano messo a pari merito per quanto riguarda condizione e struttura fisica eccetera a me io e il rumeno quindi 5 punti per uno 12 punti Adam Bomert quindi messo terzo e chiedendo appunto info al capo giuria cosa che ragazzi fate sempre non lamentate cioè questo è il mio consiglio non lamentatevi sui social vedo troppe cose così appena uno perde la gara o viene messo in una posizione che pensa non meritare subito social meritavo questo sono indignato dovevo vincere no fate una bella data scendete chiedete ai giudici perché vi siete stati messi dietro non perché quello vi è arrivato davanti ma perché voi siete stati messi lì cioè cosa dovete migliorare questa è una bella differenza da ricalcare questa è una bella differenza perché voi siete stati messi dietro esatto esatto non perché quello è stato messo avanti tu non pensare agli altri tu pensa a te stesso tu cosa devi migliorare devi arrivare più tirato devi stondarti più le spalle la schiena era un pochino indietro le gambe erano un pochino meno tirate sopra tu migliori così una volta dopo arrivi e gli porti quello che loro ti ha richiesto sperando che basta però io parlando con il capo giuria la cosa che mi ha detto mi fa quello che ti ha fatto vincere ok condizione tutto ma i punti erano quelli hai vinto comunque hai avuto quel punto in più per il posing e la tenuta di palco da classic quindi anche lì loro hanno mantenuto quello che era la linea da classic quindi anche lì spezzo la lancia anche per loro cazzo come gongolo in questo momento perché io non avevo mai posato da bodybuilder o classic qualsiasi cosa sia insomma un approccio me l'aveva dato il mio ex preparatore un approccio comunque al posing da bodybuilder però il posing da classic me l'ha dato solo esclusivamente Giuseppe e fondamentalmente tutto il lavoro che ho fatto sul posing è grazie a lui e anche comunque grazie al mio coach Cristiano Catoni perché perché ho visto questa differenza tra posing coach e coach ed è una cosa che ci deve essere il posing coach guarda al 99,9% quello che è l'estetica e l'armonia e il posing classico un coach invece ha sempre un pochino di occhio anche per quello che è la condizione quindi magari mettendo la gamba in un determinato modo si vedeva di più un particolare del quadricipite ma restando sempre classic come posa si notava di più appunto quello che erano i particolari ed ecco grazie logicamente di base a Giuseppe che è il mio posing coach ma anche grazie a Cristiano abbiamo costruito questo posing classico che poi appunto ha portato i risultati che sono arrivati fortunatamente il punto veramente anche un ringraziamento a Cristiano glielo faccio anch'io ma perché perché Cristiano sa quanto bene vi voglio è veramente un rompicoglione perfezionista e lo amo per questo mi ricordo proprio la scena Ludo quando Marco vinse la sua categoria a San Marino Cup il Cristiano ci abbracciamo non è che mi disse ok giù dai giochiamo all'assoluto sai cosa mi dice la prima cosa senza gioire giù mettiti a posto le gambe per l'assoluto subito capisci cioè è quella cosa infatti guarda Cristiano è stato uno dei primi coach che mi mandò i ragazzi me lo conosco da una vita ed è molto molto pignolo cioè lui infatti avevamo capito che le gambe andavano tirate però vedi il fatto di non accontentarsi mai cioè sembra una barzelletta ma Marco nella rialzata frontale nella doppio bicipita dove gambe la posizione del piede ma l'angolatura della gamba l'abbiamo cambiata venti volte perché ogni giorno sotto gara cambiava la forma ok ma poi ovvio che allora ci vuole un coach pignolo ma anche disposto appunto ad ascoltare il post in coach all'altra parte perché se non mi ricordo male anche nella doppio bicipite di schiena avevamo provato un approccio perché un capo giuria la chiedeva un po' più classica quindi un po' sfiancata così vedevamo che non convinceva e lì Marco cosa ti dici Marco spara la tra virgolette molto hard come dico io non troppo scazzata e Kri ha detto ok e infatti poi comunque vedi ci vuole comunicazione ripeto io uno deve essere una squadra sì deve essere una squadra esatto vedi ma senza prevaricare l'altro semplicemente si parla si argomenta le cose e poi si trova un compromesso anche perché è lui che andava sul palco non ci andavo io non ci andava Cristiano e lui poi Marco c'è da dire che è molto preciso come feedback penso anche a livello di allenamento dieta nel posing se non si sente stabile su una gamba lo dice se si già è molto pignolo troppo verso se stesso ma se non si trova bene una cosa lo dice quindi invito tutti i ragazzi a fare la stessa cosa cioè dovete essere dei rompicoglioni nei confronti dei colpi o altro anche perché mi trasmetto da quello che mi dicono molta sicurezza da sotto il palco no? ma cazzo tu sali posi io ti giuro io tutte le volte che sono io fino a 5 minuti prima di salire sono tranquillissimo sì sì il possibile quando sono sotto la scaletta io non capisco più un cazzo quindi io salgo e lo sento che sono emozionato perché comunque è quell'emozione che ti deve dare il palco secondo me il palco quando comincia a non emozionarti più che non ti vibrano un pochino le gambe lascia stare non farlo più perché vuol dire che non ti dà più emozioni però tante volte cioè io vi devo sentire comunque sicuro quando salgo sul palco da dire quella posa lì me la sento mia sento che comunque messo in quel modo in quel modo i piedi mi sento stabile non devo barcollare o rimettere cioè capisci quindi davo i feedback logicamente a Cristiano e a Giuseppe in base anche a quello perché se salgo e so che se mi metto in una determinata posizione rischio comunque di barcollare perché mettici un po' all'agitazione mettici un po' cazzo non so alla ricarica mettici un po' uno un po' l'altro se lì un po' svalvolato e cioè cadere sul palco non è che massimo no però vedi sembra una capolata raga però veramente la comunicazione è fondamentale perché ripeto poi sul palco va un prodotto appunto che ho tenuto dal lavoro di un po' un team è la decima volta che ho tirato ma sai perché perché allora questo qua è riso e pollo frullato perché non potevo mettermi qua a mangiare riso e pollo con acqua il problema è che sono depositate sulle pareti delle preziosissime calorie e io sto cercando di farle staccare ma niente diventerò secco per questo ma ce lo facciamo ce lo facciamo un video ricetta per il frullo e il pollo e il riso frullato prendi il pollo lo fai bollire prendi il riso lo fai bollire metti tutto insieme metti acqua frulli e bevi grazie tu sai tu sai che se io facessi vedere una cosa del genere quante persone mi chiederebbero come si fa cioè io quando ho fatto vedere la crema di riso mi hanno massa come la fai come la fai come la fai ho detto regà prendete la confezione la girate c'è scritto cioè ci sono riuscito è semplice metti l'acqua bollente giri è fatta cioè è la crema di riso la prendono per i bambini vuol dire che la sanno fare pure i papà quindi vuol dire che tutti la possono fare capito pazziti pazziti ti giuro guarda come fai la crema di riso come se fosse non lo so ma tanti gli chiedono sulla si di più di quanto si possa pensare perché è comodo molto comodo alla fine uno shaker come se fosse un gainer un posto per dentro stronzato dentro riso e pollo e acqua basta un bodybeaver inglese si chiamava Eddie Abbev non so come si pronuncia e lui frullava tutto lui non riusciva a mangiare e frullava tutto ce ne sono così ce ne sono così mi ricordo Milos in un podcast lo prendeva un po' per il culo perché quando apriva questi shaker c'era un profumo proprio frullabisiaco ma anche Dave Palumbo diceva che faceva 12 pastiche al giorno e frullava tutto che poi stava così tipo non vomitare non vomitare non vomitare bravo hai visto quando vi ho tirato sul gruppo esatto che stava in macchina vomitato in macchina e quando è arrivato a casa del cliente dopo aver vomitato questo litro e mezzo di brodare ha detto fammi subito un altro shaker dopo aver vomitato il litro e mezzo ha dovuto ributtare giù calorie devi perdere i game vabbè ritornando al classic Ludo invece è la tua cosa la classic guarda io l'unica cosa che mi stavo chiedendo che volevo chiedervi era un discorso relativo al costume perché io una cosa che ho notato io per esempio quest'ultima gara avrei ero iniziato che volevo farla da classic ho accannato perché il costume calzava malissimo era proprio tremendo ma hai preso proprio quello a boxer quello più alto no a mutanda MPC è mutanda però calzava male e ne stavo parlando l'altro giorno con Alessandro Balsamo un mio carissimo amico che lui pure careggia come classic e lui mi ha detto guarda Ludo io ne ho provati 8 prima di trovare me lo so fatto fare su misura perché il problema è che ci sono dei parametri regolamentari però poi te lo devi far fare molto spesso perché se non ti calza bene bene ti rovina completamente lo shape e infatti qua gli UK se lo fanno fare cioè c'è una ragazza che sta in palestra che si allena che fa costumi e tutto il resto e lei li fa proprio su misura quelli classic ma pensa che io volevo gareggiare da classic perché me la stanno menando in tanti però a me mi sta profondamente antipatico quella cavolo di mutanda perché io per esempio con i boxer faccio cagare cioè sono da mutanda quindi anche io me lo farò fare nel caso su misura perché cambia molto ma cambia tanto lo shape perché ti accorcia sembri pirino cioè è una cosa orrenda adesso per esempio quello come l'ha preso Marco li fanno un po' più sgambati che lasciano intravedere un po' la parte bassa del gluteo però anche lì se ti sta male è sempre il tozzo è questo e quindi sì ma anche a me sta male come le posizioni perché allora calcola che teoricamente da regolamento il costume da classic deve avere la spalla laterale di almeno 10-11 cm ok quindi la spalla laterale non deve essere più piccola di 10-11 cm perché altrimenti si va ad avere comunque un costume da bodybuilder che poi non è neanche un costume da bodybuilder ma un ibrido io questo costume lo sono fatto fare su misura da appunto la mia unica Sabrina Martinello che è anche il mio sponsor è bravissima tra l'altro precisissima e usa materiali della Madonna me l'ha fatto però anche lei su misura infatti tutti quelli che hanno visto il mio costume li ho mandati a lei e gli ho detto guarda che te lo devi far far su misura perché io per esempio prima avevo quello dell'MPC normale appunto con scritto MPC ma vestiva totalmente diverso questo invece il taglio olimpia viene chiamato così è stato hanno cominciato a utilizzarlo più o meno l'anno scorso un annetto fa è diventato famoso con appunto l'Olimpia del 2019 che hanno cominciato a portarlo di più ma anche nelle qualifiche ce l'avevano già e fa comunque vedere un pochino di più quello che è anche i dettagli del gluteo perché appunto come detto prima le preparazioni si sono estremizzate le condizioni si sono estremizzate quindi avere le striature sui glutei e nasconderle girano le balle quindi hanno cominciato sempre a far vedere di più anche perché se tu hai il gluteo striato è giusto che comunque lo fai anche vedere è vero che non dovrebbe essere metro di giudizio per i classi verissimo però per come si sta evolvendo la categoria che secondo me è solo che un bene perché mettere insieme armonia linea posing in più anche un tiraggio di un certo tipo è sempre meglio però questa evoluzione sta fatta anche nei costumi io per esempio ho dovuto farmelo fare appunto da Sabrina con la parte sotto l'ombelico quindi quella appunto sopra il pube più bassa perché esatto dava la forma più a V quindi paradossalmente quello dell'MPC tagliava troppo e mi smezzava quello che era il gusto facendo quell'effetto un pochino più a V esce appunto più a V e quindi anche il discorso di quelli che si presentano col costume da bodybuilding e lo tengono piatto cazzo quello va tirato su ai lati se no ti distrugge ma infatti guarda la mutanda l'ho fatta ieri il nuovo costume da bodybuilding per le gare di quest'estate l'ho fatta fare volutamente a V sia davanti che dietro maggior ragione dovrei covid permettendo non dico dove perché se no mi rompono i coglioni ma dico solo che se mi viene da una gara in fila vuol dire che gareggio ma perché ho sentito d'ansia può darsi che in quella gara ce ne ho 36 per il posing nessuno sa dove io gareggerò la cosa che posso dirti è che mi piacerebbe andare a fare uno scherzetto nelle federazioni supportate da natural sarebbe bello ci sta il nostro nazi natural è il preferito il fatto è una bella sfida perché sto preparando le gare in grotta quindi nella mia home gym spaziale alla Yates proprio basement esatto staremo bene dai qua il classic mi piacerebbe però appunto devo vedere un attimino il discorso del costume perché non è una tavolata se uno io poi come ha detto Marco allora sono uno che gli sforzi devi mostrare a me piace il costume da bodybuilder proprio perché devi mostrare il culo è brutto da dire il fatto di che mi segasse proprio il gluteo che coprisse è come non ecco perché non potrei mai fare il main physique cioè allenare le gambe per cosa non le mostri idem il gluteo a maggior ragione quando esasperi delle condizioni due righe vengono fuori nelle pose laterali back se non lo fai vedere ragazzi è peggio poi come ha detto Marco no c'è da dire che anche tra l'altro la scelta del costume tante volte è bistrattata e non presa in considerazione in nessun cioè in tutte le categorie quindi il costume anche per esempio nei main physique se tu lo tieni troppo alto e troppo piatto anche in quel caso il v-shape ne perde infatti le prime gare che feci nel main physique non utilizzai il bikini beat della della protana che invece appunto ho fatto utilizzare ad alcuni ragazzi che ho fatto gareggiare nel main physique e anche il mio amico anche per esempio Manuel Santa Lucia anche lui lo utilizza e infatti lo tiene molto più basso la parte centrale e il v-shape cambia totalmente cambia cioè utilizzando il bikini beat per chi non lo sapesse è tipo una colla da mettere sul costume e sulla pelle cos'è almeno il costume dove lo metti rimane perché logicamente magari tu ti muovi posi lui si sposta e sale se invece tu lo vuoi più basso automaticamente lì rimane fisso però anche nelle bikini o nel main physique in qualsiasi categoria il costume deve essere scelto e personalizzato perché comunque deve infosciare vai vai Giuse anche per condividere il costume appunto io ho cambiato sei ragazzi che in Italia lo producono quest'anno credo di aver trovato la soluzione giusta perché su di te io vedo che per esempio su di me il pro cut il taglio americano con le costine molto bottigli che mi scopre molto i gluteo io cambio la fisionomia l'anno scorso usavo un taglio che era dritto ragazzi era qualcosa di tremendo e anno dopo anno li provi fin tanto è vero mi sei imparlato Giuseppe sì ma tanto dopo lo sai che appena lo fai riparlare riparto da lì pure a te ti sei imparlato sì sì io è lì è lì fermo aspettiamolo aspettiamo comunque ok per cui questo è il discorso riguardo ai costumi molto bene e personalizzati dimmi sì secondo me è sempre personalizzato poi dipende anche lì io per esempio ho visto in tutte le gare che ho fatto quest'anno che fondamentalmente sono tra e vedi tutti i tipi di costumi possibili e immaginabili da quello con scritto NPC un pochino più alto con la spalla più alta più bassa quello che però mi stanno chiedendo per la maggiore è che mi ha scritto tantissimo anche su Instagram eccetera è per quello appunto nuovo che secondo me è quello che poi verrà utilizzato da tutti all'Olimpia fondamentalmente quindi prendere esempio dall'Olimpia quindi dai migliori secondo me è la giusta scelta quindi chi volesse approcciarsi al Classic in caso come abbandonato eh motorna motorna ok no è sempre comunque cioè se dovete comprarlo secondo me è il meglio appunto quello che ho utilizzato anche io nell'ultimo l'ultimo sì farselo far su misura però quel nero lucido anche perché il costume da classico non puoi scegliere il colore nero e nero punto certo non è che puoi prenderlo già come bodybuilding cioè nero lucido nero opaco però comunque il taglio è quello io consiglio quello poi ovvio sta anche lì la conformazione non è una persona e farselo personalizzare in base a uno come lo vuole ascolta una domanda che ho la routine tu quanto tempo prima la prepari eccolo allora la routine ecco mi sono io pronti ero sparito giusto sì sì sono eccolo ok ecco dicevamo la routine stavo chiedendo Ludovico quanto tempo prima l'ho preparata prima della casa a parte dura un minuto per gli amatori giusto esatto sì quando ti va bene esatto io ho visto dare un giro un po' di secondi quindi o anche io in Bologna 30 secondi poi ti hanno cacciato quindi ho dovuto togliere delle parti velocizzarne altre per far star dentro le pose che comunque sapevo che erano quelle più forti in 30 secondi al posto che un minuto quindi noi ci siamo studiati tutta la coreografia i movimenti per farla cadere al punto giusto e poi mi dite 30 secondi e poi fuori dalle balle perché siete in tanti ok allora devi star lì a ripartirlo ma infatti vedete un po' troppo veloce guarda ti dico per quanto riguarda la routine comunque molto prima innanzitutto partiamo al presupposto che la top 5 i primi fanno la routine gli altri non la fanno quindi il mio consiglio è sempre lavorare tantissimo sulle pose obbligatorie perché innanzitutto dovete regnarvi la routine quindi molti guarda mi stanno scrivendo ultimamente chiedendomi Giuseppe guarda mi serve una routine spettacolare e gli chiedo ma se il potere è l'obbligatore sì sono bravissimo è gara scorsa quando hai fatto fuori le sei bene lavoriamo sull'obbligatore che è meglio quindi innanzitutto l'obbligatore perché io sono del parere che comunque nella routine la maggior parte delle pose devono essere comunque pose obbligatorie che consentono ai giudici di rivalutare il fisico perché se io giudice sono indeciso tra il tiraggio di uno un altro le proporzioni comunque devo vedere una front double biceps una back double biceps una side chest quindi alcune pose rispecchiano le stesse obbligatorie fatte nei confronti le obbligatorie sono diverse rispetto al bodybuilding perché ci sono le quattro semi rilassate sui quattro lati poi c'è doppio bicipite frontale espansione toracica doppio bicipite di schiena addomino e gambe e posa classica favorita quindi mancano la side triceps la tricipite laterale la spread le due la spread e poi la most muscular la most muscular è sostituita dalla posa classica favorita quindi la routine appunto scusami una cosa sono diverse anche come vengono fatte perché le chiedono in versione classica teoricamente che poi è bello che non è scritta questa cosa che vuoi vedere sui vari regolamenti che tutto doppio bicipite frontale ecco perché erroneamente uno dice vabbè faccio bodybuilder il giorno prima il giorno dopo faccio classic stessa cosa non ho capito nulla diciamo che ci vorrebbe più chiarezza da parte appunto delle federazioni ecco perché se uno scrive il doppio bicipite il ragazzo è un esperto ovviamente te lo fa uguale al buon building quindi ti dico nella routine molte delle pose obbligatorie muscolari previste più ovviamente delle pose classiche che possono essere in piedi in schiena tre quarti in ginocchio e capisci quindi che ci vuole un lavoro veramente particolare sul posing si parte dall'obbligatore poi si capisce in quali pose stai bene ecco l'errore che fanno i ragazzi è quello di impallinarti vedere dei professionisti una posa non so alla boomstead con la mano sul fianco di bicipite singolo e provare a rifarla ma perché perché nel classic l'errore che si fa è vedere la victory esatto ma pensa che Sergio Oliva Junior che è il figlio di Sergio Oliva continua a fare questa victory pose quando le braccia sono tremendamente più piccole di quelle di suo padre e non si rende conto che è ridicolo però piccolo dettaglio e ma lì lo fanno richiamare il padre non si sa che però per dire quindi voi considerate questo cioè la routine innanzitutto bisogna guadagnarsela essere impeccabili nelle obbligatorie riproporre molte obbligatorie nella stessa routine e poi aggiungerci delle pose classiche che solo tramite un grosso lavoro su pose si può fare io di solito guarda per la routine comunque voglio vedere un minimo di condizione accettabile perché anche con Marco abbiamo visto delle pose in ginocchio è ovvio che se l'addome non ha certi solchi la gamba non è tirata abbastanza non puoi fare delle pose in ginocchio non puoi renderti conto soprattutto nelle pose di schiena dove puoi posare gambe incrociate o altro fin quando non hai una condizione abbastanza dura è difficile capire quindi io consiglio questo almeno lavorare molto sull'obbligatore perché dovete arrivarti alla routine iniziare a capire col pose in coach quali pose classiche sparare nella routine capire se si è in grado anche di andare in ginocchio perché l'ottanta persone ragazzi in ginocchio non riesce a starci questo è brutto dire ma ci vuole certa mobilità della caviglia e del ginocchio per restarci in ginocchio Marco la prima routine cioè nelle routine di solito la parte in ginocchio occupa quasi metà della routine di solito in ginocchio è la parte più bella per un classic però anche lì devi esserci portato devi per stare in ginocchio perché si parla di 30 secondi in ginocchio per atleti che vanno dagli 80 a 15 inizio non è facile e soprattutto devi essere bello in quelle pose ecco non è che tu vai in ginocchio e ti piazzi quindi quella è una cosa importante anche perché ecco molti pensano che nel classico la routine venga valutata ecco questo sfatiamo subito il mito inizio devi arrivarci punto primo punto due io lo dico contro i miei interessi la routine diciamo conta veramente poco anzi si parlava di un ridimensionamento del punteggio della routine dei professionisti quindi capite che si sta sempre andando anche nel classic verso una valutazione del fisico ok quindi anche lì il posing è classic non pensate al posing relativo alla routine ma pensate al posing relativo alle cose obbligatorie ok ti faccio una domanda però perché è lì che il giudice valuta allora le obbligatorie come dici vengono fatte in versione classica il problema è in versione classica ci sono atleti che si sfiancano tanto come abbiamo visto ad esempio Terrence eccetera atleti che stanno un po' più frontali cioè alcuni stanno proprio tre quarti altri frontali c'è una bella difficoltà per i giudici in quel caso di valutare molto molto io vado un attimo in bagno perché se no mi piccio addosso arrivo è certo hai bevuto tre minuti dall'inizio esatto così in pari ti dico lì secondo me ci vorrebbe più coerenza dei giudici a penalizzare apertamente i ragazzi che posano per esempio gambe a terra cioè che effettuano la posa da classic in versione bodybuilder il problema qual è che i giudici spesso si lasciano abbagliare appunto dalla cosiddetta condizione perché stiamo parlando comunque di una gara di fisico è ovvio che tu puoi posare anche estremamente bene da classic sfiancato tutto ma non sei forte fisicamente come quello che ti è di fianco ecco lì ci vorrebbe molta coerenza da parte dei giudici di dire o mettere dietro quello forte oppure cioè è veramente difficile dipende sempre dal fisico bisognerebbe imporre ma proprio renderlo noto tramite i media o i regolamenti che devi poter da classic altrimenti verrai penalizzato e poi ci vogliono ovviamente passami il termine le palle da parte dei giudici di mettere dietro atleti tremendamente forti e condizionati che però posano a terra gambe a terra oppure molto da BB gambe a terra intendi i talloni a terra cioè che non si si talloni a terra con busto ai giudici quindi sai anche lì dipende tutto dai giudici sono loro che comandano il gioco quindi sai anche lì in teoria il classic nasce come pose in classic però ovviamente sai io la vedo così allora da giudice se ho davanti a me uno che posa tremendamente bene la classic ma è liscio come una patata e uno che posa da BB ma è molto forte e comunque ragazzi una gara di fisico va davanti quello forte quindi capisci che è molto difficile è come il discorso delle bikini se tu in categoria hai due bikini una molto morbida per quanto posi bene da bikini e una un po' grossa e un po' tirata ma è molto forte si vede che questa qui ha fatto la rete salenata io metto avanti quella capito anche lì è molto sottile la differenza è molto difficile da gestire credo che comunque ci siano anche dei meccanismi di incoraggiamento nei confronti degli atleti soprattutto nel circuito amatoriale cioè della serie cazzo c'è una bella struttura c'è una bella potenzialità che ne so si vede che hai scazzato la pic quindi che stai tirando un po' troppa acqua eccetera magari se sono indeciso ti faccio passare avanti perché capisco che magari l'errore è quello però generalmente se sono indeciso logicamente quindi la gente deve anche capire che ci sono dei meccanismi di incoraggiamento anche il discorso che facevamo relativo alle bichini molto spesso i giudici ok io ho visto atleti bichini che dovevano vincere però col fatto che erano troppo tirate i giudici vogliono dare un segnale della serie questa la vedi questa qua fa cagare rispetto a te però te così non ti puoi presentare su un palco ah beh certo queste anche sono cose sì dall'atleta logicamente capirlo e adattarsi a quello che è il parere dei giudici chiedere sempre ai giudici esatto ma facci caso Ludo uno di quei due ragazzi che Marco ha messo dietro in Polonia poi diventato professionista se non sbaglio ok e comunque esatto esatto ma non posava bene cioè non è propriamente classic però secondo me il messaggio è stato guarda che sei molto buono noi tiriamo la pro card ma migliora il posing capito cioè ovvio che secondo me allora ricalcola che come dicevamo anche negli altri podcast sta anche tanto al capo giuria Tim Garner che lì appunto era capo giuria e anche organizzatore della gara lui prediligeva molto molto quello che era la condizione all'estetica quindi secondo me ha visto in lui proprio una condizione comunque ottima che era migliorata anche addirittura rispetto a quello che era la Polonia di poco però era un pochino migliorata e secondo me l'ha voluto premiare anche il giorno dopo tra i professionisti perché comunque aveva una durezza e un tiraggio che altri professionisti per esempio non avevano pur essendo professionisti da più tempo quindi secondo me è stato anche un incoraggiamento dire ok sei sulla strada giusta quello che vogliamo è comunque un bel tiraggio hai comunque delle bellissime linee se posasse anche meglio Adam Bomber sarebbe veramente un problema per tanti perché cioè è forte di base è forte io l'ho visto nel backstage è il primo e l'unico veramente che sono andato a fare i complimenti perché era il classico che nel backstage dici che cazzo non è questo c'è proprio il grosso poi purtroppo posando si svalutava ci andava a perdere punti posando cosa che invece dovrebbe essere totalmente il contrario ma infatti Marco quando c'era la foto della premiazione dei controlli con te lui era tremendamente grosso infatti quando lo vedi si cavoli Marco ma questo è il doppio è gigantesco solo che poi quando lo vedi a fianco la gente riusciva a guardare solo te lui non se lo vedi comunque è grosso ma non sa posare questa posa poteva anche il fotografo è stato veramente cattivo qui cioè impietoso vedi anche il costume com'è brutto cioè si vede che proprio lo distrugge il costume e qua se fosse più a bu esatto dietro bene o male si sarà anche un po' l'asco vedi che non è bello aderente si 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 fa le pieghe però lui davvero se tu lo vedi giù dal palco questo ragazzo è assurdo molto molto posa e perde punti però è meglio si si no ma poi sai cosa Ludo a meno poi Marco questo mi direi anche te la cosa che vedo io ecco che nel classic si dà troppo peso a quello che piace all'individuo cioè io vedo anche molti professionisti o grandi atleti classic con cui ho avuto il piacere di collaborare e poi loro vanno a strafare cioè loro pensano che avendo un gran fisico ok possono permettersi tutte le cose del classic il problema qual è che il classic anche se uno ha un gran fisico è veramente a secondare quella che è la linea del proprio corpo la plasticità cioè non è che tu vedi una foto che ti piace e la provi solo perché sei grosso e tirato può darsi che sei ridicolo in quella posa io infatti a molti pro classic o anche amatori forti classic dico ragazzi o concordiamo insieme quali pose sparare altrimenti fate delle figure pessime perché poi ti trovi quello lì che in quella posa sta bene e ti massacra capito quindi esempio stupido ragazzi non so se avete presente la posa ti giuro se non hai 60 di braccia quella te la scordi tutti tutti vogliono far questa ma perché ma perché cioè gli temo come la victory pose si la faceva Oliva ma non è che tu la fai e il giudice dice cavoli sta facendo la posa di Arno no la cosa che pensa dice vedi sto coglione Arno c'era le braccia il doppio è ridicolo cioè vedi è quello che la gente deve capire cioè non è che idem come parlavamo l'altra volta della front pose della Pesini non è che tu bikini fai la posa frontale dell'Elisa e il giudice dice cazzo bella questa qui posa come la Pesini no dice cavoli questa qui è proprio cretinina perché poverina cioè sta facendo una figura pessima però vedi lui la gente deve capire che è quello che ha detto anche Marco i giudici devono emozionarsi cioè non è che stanno là a pensare ha fatto questo piuttosto che quest'altro no è quello che gli arriva cioè vede una trata e dice cazzo questo che bello e vi è mai capitato Giuseppe probabilmente molto meno ma vi è mai capitato quando vedete delle routine particolari con dei passaggi anche magari veloci che fate oddio che cazzo ha fatto questo era troppo figo che magari ha preso ha preso delle pose un minimo strane cucite su di lui che tu neanche hai riconosciuto magari erano pose che conoscevi ma le ha prese in maniera particolare e dici che figata e tu non sai che cosa è successo ed è quello che deve succedere sul palco cioè il giudice non deve stare a pensare ok questa è la posa di Arnold poi la side chest come la grande cosa poi quell'altro no cioè devi andare là e dire porca puttana che figata ed è anche bello il fatto che perché Terrence Ruffin è visto così ma perché lui molte pose se le è tra virgolette inventate o ha trovato delle variazioni che su di lui funzionano esatto è vero è vero ragazzi è questo infatti nella routine che ha fatto adesso non mi ricordo se era il toronto pro show toronto famosissima toronto pro show che c'era la canzone quella I'm not survivor quell'anno tutti i classic hanno passato su quella canzone io c'avevo le palle piene a tutte le gare partiva le routine erano 5 routine 5 con quella canzone raga quando io sento quella musica sai cosa penso ecco un altro folle sì perché poi i peggiori erano quelli che con quella routine facevano la stessa routine di Terrence classico come come dice un rei che mettono maiole e provano le stesse pose sono ridicoli a parte che con Marco volevano parlare maiole poi abbiamo rinunciato no perché dopo facevo una brutta figura a Sean Ray e mi ha detto lascia stare va povero no vabbè per rispetto secondo me quella è cucita su di lui e è sua nel senso cioè è sua è un altro l'automantico lì però il problema è che stai tante volte magari la gente collega se comunque uno è un appassionato e uno dei giudici lo sono e magari tu metti maiole paradossalmente cioè comunque tu crei un qualcosa un'aspettativa che se poi non viene comunque mantenuta dici cazzo sì bello però non mi ha così toccato quindi rischi di creare aspettative e quindi non è che noi avessimo avuto paura però abbiamo trovato altro che ci stava meglio per esempio all'inizio la prima che abbiamo usato era Ashes di 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 Céline Dion che la rifare è stato fortuna e poi abbiamo usato Elisa ha portato sfiga perché non l'ho potuto fare perché sia stato appunto messo fuori dalla Yamato fuori dalla finale e quest'anno invece abbiamo usato quella di Titanic sempre Céline Dion quindi ho detto io d'ora in poi userò solo Céline Dion perché porta fortuna quindi andiamo con quella e comunque non l'aveva mai utilizzata nessun professionista quindi non andrò a collegare la mente a quello adesso c'è gente che usa Titanic per copiare D'Ambroso e fanno delle figure di merda comunque vedi il discorso di emozione di pubblico vedi io ovviamente avendo l'occhio tecnico poi sono perfezionista posso dire per certo che nessuno è nessun professionista anche negli amatori molto bravi a posare sono impeccabili nelle routine molti sbagliano sono dei passaggi mal collegati però la cosa che a me fa emozionare appunto è quel passaggio anche se uno mi canna una routine ma ti fa quei 5 secondi come Dio comanda la dico io applaudo cioè per dirti ma è sempre stupido dato che adesso c'è Marco di fianco usiamo lui come esempio lui per esempio a San Marino aveva posato bene però lui sa come io levo delle routine molto proprio morbide devi emozionare a me per esempio io aspettavo con ansia un passaggio di schiena che abbiamo studiato che in pratica lui era nella posa di back gambe incrociate si girava e prendeva la posa quando lui ha fatto quel passaggio lì la gente ha applaudito capito cioè ci sono in ogni routine dei lampi proprio come dico io dei lampi di pulia di talento che lì emozione sembro stupido io mi ricordo al primo Arnold Classic in cui lavorai con Gabriele Andriulli il ragazzo in carrozzina e lui ti giuro prima posa prima posa fece una posa in cui alzava la mano cadde giù il palasport a Columbus prima posa cioè poi potessi che però quello lì ecco c'hai quel lampo lì che dici ma anche di men physique molti men physique hanno proprio un estro nel movimento che quando vanno proprio a pennellare un movimento ti emoziona ragazzi e lì per me hai già vinto ovvio che meglio quelle routine lì che quelle studiate troppo a memoria così ma io ti dico io stesso l'ultima gara un anno e mezzo fa ho beccato un pavimento un po' sdruccioloso un po' non so un po' asfaltato mi sono inceppato mi sono accorto io mi sono incazzato gli altri no però in quei due o tre passaggi qualcuno nel pubblico si è messo a piangere per dirti cioè se tu hai quei lampi di genere una routine l'hai già vinto è impossibile essere impeccabili in tutte le routine ovvio che un ruffin è stato veramente impeccabile però poi sai lì dipende tu cosa vuoi trasmettere perché per esempio un ruffin comunque se chi sta guardando vuol vedere delle routine e di sicuro voi due mi darete conferma delle routine che emozionano andate a cercare lì la prada in nel nell'80 nel 91 fece tre minuti di routine senza mai non ha mai rifatto la stessa posa in tre minuti una cosa molto importante a parte che ci sono diversi generi di routine nel senso che ci sono atleti un po' più di impatto atleti un po' più morbidi eccetera eccetera quindi anche questo diciamo degustibus però una cosa la routine non è da posa a posa cioè la routine sono le transizioni sono i passaggi perché io vedo la gente la routine faccio questo faccio questo faccio questo faccio questo esatto ma ecco chi è tremendamente bravo è colui che riesce a emozionare con i movimenti però poi quando becchi la posa la becchi bene perché se becchi giù dice che vuole usare la routine come discriminante per capire se tu confermi la condizione avuta mezz'ora prima e lì infatti con Marco per esempio cosa facciamo prima di fare le transizioni sappiamo le pose statiche da inserire cioè tu devi mostrare tanti fotogrammi e poi devi unire con i movimenti devi emozionare con i movimenti ma quando tu becchi la posa tu devi essere chiesa cioè infatti per esempio Marco nella posa di schiena dopo il bicipite incrocia la gamba proprio alla show ray un classico passaggio sì ma non è che poggia la gamba tanto perre deliscio come una patata no no è rigato quindi ecco perché il mio consiglio è quello anche per i ragazzi che si affacciano a sto mondo la routine immaginatela come tante pose messe insieme e poi centellina unitele nel modo più fluido possibile e solo alla fine scegliete il brano perché anche lì vedi si sbaglia perché cosa fanno scelgono il brano il problema che poi il problema del brano qual è? che poi devi essere in grado di posarci su infatti con Marco mi ricordo avevamo fatto questa routine una donna benissima ci eravamo messi in testa ad usare un brano quel brano lì non andava bene perché non riuscivamo a beccare quel basso preciso l'abbiamo cambiato tante volte però vedi il consiglio mio è quello cioè quel giorno abbiamo fatto un'ora e 45 di posing io sono uscito ti giuro siamo pesati abbiamo provato quella routine prima senza musica ok lei l'hai messa in testa perfetto adesso proviamo con tutte le canzoni che volevamo quindi prova con questa 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 ti giuro sono scelto lì però poi abbiamo trovato una canzone che si adattava di più a quelle pose che avevamo scelto che praticamente anche le pose erano quelle che si adattavano meglio al mio corpo quindi tutto l'insieme ha creato poi la routine finale che a me sinceramente è piaciuta tanto sì ma poi sei cosa e comunque il segreto in fondo è quello cioè comunque è necessario avere un fisico perché io per esempio comunque mi reputo bravino a posare proprio quando mi lascio andare alla musica io infatti sono tremendamente bravo quando poso da vestito occhio perché perché sono molto musicale sono molto snodato mi piacerebbe avere il fisico di Marco sia che sia il fisico di D'Ambrosio porca ragazzi cioè guarda che sarei un grandissimo posatore però il segreto è il fisico l'avrei vinta da Alicante quella programma mannaggia ecco quello che devo capire ragazzi è questo cioè innanzitutto lavorate sul fisico ok il posi questo lo dico contro i miei interessi ok però devi avere un fisico io stesso che sono molto bravo a posare e sono molto critico so che se dovessi sparare qualche posa che insegno a Marco farei una figura di merda e lo dico io cioè quindi non fate i fenomeni come dico io di copiare le pose degli altri di chi è meglio di voi cercando di dire ok lo faccio perché mi piace sì ma aspetta è una gara non ce lo dimentichiamo non è un'esibizione ok quindi anche lì e quello è l'errore cioè molti ragazzi fanno quello che piace cioè la routine non è un balletto occhio cioè è è emozionare ma usando la potenza del proprio fisico cioè tu quando posi devi emozionare ma devi essere impeccabile da fermo ok non è che per emozionare sei liscio sul culo o non metti bene cioè ecco perché io dico occhio è il fisico il posing eh ti ricordo Kai Green faceva delle pose cioè una routine assurda minchia però quando beccava le pose ragazzi streature solchio non è che la posa rimaneva lì flaccido molle a parte che era impossibile fosse flaccido e molle ma quando beccava la posa la beccava cioè tirava ma anche lì fatti caso ha comunque una sicurezza come puoi averla tu di una condizione talmente buona che anche se dovessi sbagliare a mettere il piede non è che sia liscio il culo c'è la riga sul culo cioè sono cavolate ma anche la stessa cosa delle bichini a molte bichini piace camminare come la laiungo la pesini sì ma quelle lì se mettono male il piede il gluteo è di pietra è sferico la stoico se sbaglio a mettere una sculata è sferica se una bichini naturale anche un po' bruttina mette male il gluteo e si fa la buccia arancio capito che dici le cose perché partono dopo i commenti sotto dicono hai detto vedi che mi sono trascinuto buccia d'arancia buccia d'arancia diciamo che l'ho impiocchettata bene stavolta mettiamola così anche un po' bruttina un po' bruttina un po' bruttina mi correggo ragazze se una ragazza è un po' meno bellina del scolito ecco però abbiate la sicurezza del fisico io infatti pensate sono psicolabile la notte prima della gara io passo quattro ore alla mia allo specchio della mia scarpera perché la notte prima della gara il mio fisico cambia drasticamente per quanto riguarda i liquidi corporei e io può darsi che una posa che non rendevo che non rendevo il giorno prima la notte prima della gara decido di sparare il giorno dopo perché il fisico cambia drasticamente la settimana della gara la notte prima quindi ecco perché la routine non va preparata troppo prima proprio perché il fisico in questa condizione devi veramente fartela su misura per evitare il figuraccio fondamentalmente io dico la mia la mia esperienza per esempio se da quando anche abbiamo studiato la routine Giuseppe era più o meno un mese e mezzo prima della prima gara mi sembra era no forse sì un mesetto e mezzo prima ma nonostante avessimo provata io non è che dopo tutti i giorni io sempre facevo ok posi in tutti i giorni più o meno dai 20-30 minuti al giorno per la prima parte poi invece l'ultima parte per anche solo non stressare troppo il corpo ho posato un po' di meno da quando ho iniziato la prima gara fino alla terza però di base se dedicavo 20 minuti al posing facevo comunque un 15 minuti ma anche 17 per dire di pose così ce le obbligatorie ok perché comunque come diceva prima Giuseppe alla routine ci devi arrivare quando ti fanno i confronti cioè comunque li fai i confronti con le obbligatorie anche perché io ho visto che tutte le volte che fai la routine i giudici hanno già dato comunque i cartellini o comunque li hanno già finiti quindi tu ok fai la routine ma è quasi come per non lasciare tempo in più ok giudicare la routine perché comunque ormai è così da anni che si fa nel bodybuilding però serve quasi più per far finire i cartellini ai giudici ma che hanno già deciso esatto quindi non è un metro di giudizio quindi va bene provare la routine è una cosa mia personale è una mia soddisfazione personale se porto logicamente un prodotto che dico quando mi riguardo il video o se tra il pubblico vedo gente che applaude o quando per esempio la mia amorosa tutte le volte che mi ha visto al vivo posare si è messa a piangere quindi sono cose che danno soddisfazione a me ma non fanno vincere la gara quello che fa vincere la gara sono gli obbligatori quindi io quando provo faccio almeno un tre quarti di tempo anche di più sulle obbligatorie e poi magari quelle tre quattro volte a settimana provo la routine magari più vicino alla gara invece si provo un pochino di più la routine però senza dargli troppo troppo tempo prima in tutto perché appunto non sai se la farai e quindi magari perdi tempo sull'obbligatorio che ti ci fanno arrivare ma poi sai di sicuro più tempo altrimenti Marco poi vedi la routine si creano anche degli inconvenienti come in Polonia a 30 secondi sai io vedo molti ragazzi che fanno le routine che ci mettono 30 secondi sai la camminata lenta la shonray poi la pirouette io dico cavoli ti mettono 20 secondi di routine non fai in tempo neanche a beccare la prima posa devi andare già a casa quindi ecco perché ragazzi fisico poso obbligatorie routine ovvio la routine deve essere giusta poi come ha detto Marco ci sono ragazzi che ci tengono di più ma non tutti siamo artisti questo c'è da dirlo cioè non è che ho visto che arrivano il giorno della gara e gli chiedevano hai la chiavetta o il cd? no io non ho la musica a me mettete nessuna voi cioè capisci proprio l'importanza che viene data ma siamo chiari quindi fa capire quanto sia veramente importante la routine è più una cosa che fa arte fa spettacolo è bella però dal punto di vista del giudizio sono io il primo a dirlo secondo me il giudizio deve essere fatto sull'obbligatorio e basta nei confronti la routine è qualcosa in più che se magari lo so c'hai al primo posto due ok comunque due che si contendono una determinata posizione e sono a pari allora dici ok valutiamo in base alla routine chi è meglio allora lì ci può stare magari cambiare un risultato o decidere appunto di far vincere dei due in base a quanto quanto è bella la routine o quanto è bravo a posarli io ti do ragione ti do ragione però quando salgono sul palco e come routine mandano una musica sotto e ci sparano quattro pose buttate a caso io la trovo mancanza di rispetto cioè quello mi dà proprio fastidio no 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 ma quello proprio non voglio neanche ma non è classic ti parlo in generale cioè nel senso secondo me ti do ragione sul fatto che la routine deve rivestire una piccola parte eccetera però ci deve essere si deve vedere un impegno dell'atleta a portare un qualcosa secondo me è questo cioè quello ci deve essere come base sto solo dicendo appunto per far capire i ragazzi che ci guardano che non è metodo di giudizio almeno negli amator forse nei professionisti già di più o qualcosina ma poco ma negli amator comunque non è metodo di giudizio come dici tu anche io dico cazzo allora ci prepariamo mesi anni facciamo la fame la dieta ci spacchiamo i muscoli in palestra quando sali sul palco sfrutto ogni minimo secondo da quando sali a quando scendi tu devi dare il massimo di te stesso quindi tutti i confronti anche per esempio quello che vedo tanti che sbagliano questo per tutte le categorie è che quando salgono sul palco danno il meglio quando fanno la t-walk poi vanno dietro e si rilassano che cazzo ti rilassano guardano sempre stai mesi 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 a fare preparazione arrivi sul palco stai rilassato ma che cazzo fai posa stai duro devo dire quello che hai fatto anche perché i giudici hanno gli occhi se tu sei dietro e sei scazzato ti vedono cioè devi essere sempre impeccabile dopo quando scendi hai tempo di sdraiarti svenire mangiare fai quello che vuoi ma dal primo all'ultimo secondo deve essere impeccabile quindi anche la routine deve essere sfruttata al massimo ti danno 60 secondi oltre ai 5 minuti che sei stato sul palco se tu metti insieme tutto sono 6 minuti 6 minuti sono il premio di mesi anni di sacrifici preparazioni cazzi e mazzi cioè sfruttali tutti come dici anche tu sali fai 4 pose sparate alla cazzo dici ma cosa stai facendo hai 6 minuti in tutto l'anno per farti vedere sfruttali stai a caldo ma tu sai ma sai Marco alla fine come si dice negli anni è evoluto proprio il concetto di posing nel bodybuilding come parliamo perché anni fa pensa te ai tempi di Schwarzenegger le gare iniziavano le routine cioè le routine erano il biglietto della visita poi c'erano i confronti ecco perché all'epoca tutti sapevano posare cioè all'epoca se tu vedevi anche l'ultimo classificato posava da campione ma anche negli anni 90 così c'era il round delle final il round della routine quindi non vedevi gente che posava male anche quello che posava un po' meno bene rispetto agli altri era già un gran posatore infatti se voi vedete l'Olimpia all'epoca di Liane e così anche l'ultimo classificato era un grandissimo posatore sì adesso dimmi anche Pocherini in una diretta che ha fatto pochi giorni fa lo diceva cioè ai tempi quando gareggiava lui che era professionista lui cazzo si posava un'ora al giorno pose 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 anche perché tu quando vai sul palco non fai vedere la panca piana tanti ignorantemente ma è giusto cioè proprio nel senso nel vero senso della parola essere ignorante vuol dire non sapere e tanti ti chiedono ma le gare di bodybuilding in cosa consistono cioè salite fate pesi fate no quello è powerlifting è misurarsi quanto sollevi eccetera il bodybuilding è posare è mettere in esatto è mettere in vista il tuo corpo con delle pose perché non poti è quello che fai sul palco la cosa che la gente deve capire è che se voi faticate per dire 5 anni per avere una spalla un po' più tonda magari 2 secondi che beccate che capite come farla vedere nella posa guadagnate 5 kg di massa mettigliela così alle persone vedi come iniziano a posare perché è vero tu vedi tu vedi un atleta vedi un atleta che può avere un impatto di volume proprio di peso percepito sul palco totalmente diverso in base a come si si mette esatto ma Ludo facci caso ne parlavo ieri con Marco gli mostravo una mia foto in gara io non faccio pump quando vado in gara ma perché perché so esattamente cosa tirar fuori e come ecco perché dico a molti ragazzi ragazzi ok pump ma piuttosto posate nel backstage andate a oleare i meccanismi perché se io so che facendo così il braccio aumenta non bisogna di pompare fino a un certo punto è sempre molto più grosso di 63 kg che è il peso reale in gara capito quindi anche lì il posing dà tanto perché è meglio essere bravi a posare che a pompare come dico io perché se non sei a pompare cominciano io quello che non capirò mai e io penso che anche voi l'abbiate visto 45 minuti 60 minuti prima che ti chiamino la categoria la gente è sotto ti manca anche perché ogni volta che ti chiamano il tuo numero devi metterti lì cioè minimo passa ancora 10 minuti un quarto d'ora che stai lì fermo hai cominciato un'ora e mezza prima a pompare secondo te che pump ti rimarrà addosso puoi avere tutta la ricarica tutto il sale che vuoi qualsiasi cosa che vuoi le gallette il miele che hai mangiato le ciclo destrine tutto quello che vuoi ma dopo un'ora che hai fatto pump e ti metti lì 15 minuti hai terzo il pump quindi c'è piuttosto uno magari ci fai 10-15 minuti di pump e quando sei magari sotto il palco che devi salire o fai qualche isometrio oppure posa posa e noi quando eravamo a San Marino e quando stai sul palco raga quando stai sul palco ti riempi pian piano eh quello è un momento in cui sei attivo perché tal salgono sul palco hanno il fiatone perché sono stati un'ora a pompare non hanno più energie sono svuotati salgono respirazione sudano colore rovinato esatto anche perché durante i confronti quando quelle pose se hai pompato troppo prima non riesci più a tenerle sei penalizzato non è che ci hai guadagnato si sali visivamente sei più grosso ma poi se non tieni le pose perdi i punti ma infatti Marco vedi alla fine il posing è molto importante perché è tutto intorno a quello anche il pump va calibrato colè il colore il piatto mi espansi cioè io preferisco veramente non pomparmi devi arrivare in forma incredibile con la ricarica giusta con un piuttosto fate stretching fate un minimo di sommetrie un minimo di elastici ma ecco io dico sempre quello quando salite fermatevi non appena sentite che il fiatone inizia ad andare a corto perché se iniziate ad andare in iperventilazione così è troppo quando si comincia è troppo esatto no dovete solo un po' riscaldamento deve essere un riscaldamento io infatti non andare in iperventilazione e essere lì sudati marci perché se ti prendi un sudore dalla fronte sulla coscia è appena dato il colore se non hai dato la lacca come appunto dicevi tu ti si rovina e quindi già hai scazzato però sì un po' di pump ci sta però noi per esempio San Marino Cup nel backstage abbiamo fatto tante prove di posing e automaticamente la tua mente già si sta abituando ai movimenti che dovrai fare 5, 10, 15 minuti dopo quindi non vieni colto di sorpresa cioè il tuo corpo non viene colto di sorpresa nemmeno la tua mente quindi si ci sta un po' di pump per richiamare il sangue in alcuni di stretti muscolari che magari vanno compatti perché sono magari un pochino inferiori ad altri quindi per aumentare la sirmatria e l'armonia ci sta però comunque il posing secondo me è una cosa che veramente non viene fatta quasi da nessuno nel backstage ma una delle cose invece più importanti ma proprio anche da un punto di vista mentale tu posa abitui a dire ok fra 15 minuti devo salire faccio questo 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 tu sali e l'hai già fatto poco prima anche perché sali sul palco sei già un pochino così in palla se invece hai fatto una cosa poco prima che ti ha rilassato che ti ha messo in condizione anche mentale sali sul palco sei molto più pronto e non sei super sudato non sei iperventilato perché anche lì le posano anche di tenere 40 secondi una front double bike la provi vedi come impostarla e poi secondo me è molto meglio far così però vedi facci caso il segreto è sempre comunque studiare comunque prima perché tu per arrivare il giorno del backstage che comunque riesci a devi averle fatte molto prima e devi venirti automatico ok anche perché pompare in eccesso non ha senso perché se tu devi diventare un palloncino rigido e non hai mai provato il posing del backstage appena ti chiedono la front double bike sei rigido piuttosto diciamo che tu devi andare a indirizzare tutto quel pump nel movimento io infatti altro consiglio che do fate un giro di pump leggero alternate un giro di pump e un giro di posing cioè sempre mi stangui lì e poi lo indirizzi comunque dei muscoli come dico io cioè scusami il posing indirizza il pump nei muscoli che veramente poi diritti sì esatto devi andare comunque a scuola perché attivare il sangue rimane lì esatto esatto ma molto meglio è sempre il fisico in primis e poi pratica sul posing però il posing proprio come detto Marco nel backstage pre contest ti cambia una gara perché gira sembra una cavolata ma gira tutto intorno al posing perché tu puoi essere tirato grosso duro ma se posi male spanzi ti cola il cuore tu hai bruciato una preparazione per il posing ecco perché lo dico spesso a molti post ragazzi nel backstage anche in base alle emotività del ragazzo molti ragazzi sono molto emotivi se pompano troppo si agitano gli arriva il sangue qui non capiscono niente cioè anche lì la comunicazione il discorso di prima tra posing coach coach è fondamentale perché potessi sai molti coach ex atleti sono fanatici del pump aggressivo ma io vedo ragazzi pompa 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 questi ragazzi che iniziano già colare già iperventilare e alla fine non danno modo neanche a me che sono andato lì apposta potessi fargli fare un giro di posing che poteva salvarli e tu vedi questi cose che ragazzi impesi fateli in palestra per arrivarci alla gara assolutamente lì il posing coach veramente ha un ruolo importante anche perché comunque lavorando con ragazzi il posing coach di solito anche la psicologia del ragazzo la capisce bene almeno io negli anni ho sviluppato quella sensibilità di capire subito uno se si può agitare poi ci sono quelli che se ne sbattono veramente tanto può farlo anche pomparsi un pochino di più ma dipende io tipo che soffro d'ansia io se mi pompo troppo e inizio a sentire un po' l'addome che non lo tengo o altro portano delle pare ok ecco perché anche le bikini cosa si pompano a fare cioè arrivate pronte e io credo di pompare assolutamente d'accordo e io credo che fate gli slanci posteriori gli affondi gli thrust nel backstage per gonfiare il gluteo che dovrebbe già essere rotondo e di marmo per altri motivi non per il pump cioè ecco il pump non deve buttarti fuori quello che manca ci sta come ha detto Marco enfatizzare un po' non so il tricipite la spalla il muscolo carente ma non è che il pump ti fa venire fuori la spalla se la spalla non l'hai mai avuta io lo faccio fare normalmente solo sui distretti carenti esatto esatto come ho detto anche io prima però vedi comunque una cosa che di sicuro a chi guarda vorrà sapere perché non abbiamo parlato il vacuum ah bravo il vacuum questo di sicuro allora è metro di valutazione solo in alcune federazioni o in una federazione se non l'abbiamo ben capito in pro league il vacuum non è metro di giudizio cioè non viene giudicato non è non dà punteggio ok quindi ok se un vacuum nasce appunto per far vedere che non ha espanzamento che è questo vuoto addominale quindi va bene però non dà punteggio in più cioè è bello vedere un vacuum se logicamente sta bene su quella persona anche perché il vacuum non sta bene su tutti ecco su me per esempio il vacuum paradossalmente va ad allargare effettivamente la vita piuttosto che stringerla paradossalmente quindi fortunatamente in pro league perché se io insomma fossi in una federazione in cui appunto viene valutato il vacuum non vincerei perché io il vacuum non ce l'ho per esempio un Christian Zagarella ha un vacuum bellissimo perché comunque è già anche secondo me una cosa che hai di natura va bene allenarlo va bene fare la respirazione antidiaframmatica va bene tutto però il vacuum secondo me ci nasce ok anche per la posizione delle costole se io per esempio ho le costole un pochino più in basso come ho io facendo il vacuum comunque l'accenno di vacuum che posso tentare provare perché appunto io non ce l'ho di natura paradossalmente inspessisce la vita e la linea ne perde quindi ecco il vacuum non è giudicato almeno in pro league mentre in federazioni come la Fit Italy è obbligatorio c'è proprio la posa di vacuum e viene giudicata cioè viene proprio dato il punteggio ma addirittura Marco ti dirò oltre a essere giudicato in una posa di vacuum in Fit Italy il vacuum in tutte le pose anche nelle rilassate laterali per esempio conta il 30% del punteggio e capite che molti ragazzi che vanno lì non si piazzano pur avendo un gran fisico vi do la risposta perché probabilmente il vostro vacuum non è valido perché vogliono il vacuum in tutte le pose dalle rilassate alle muscolari anche se non stai bene cioè tu devi avere quel vacuum altrimenti come classic in quella federazione lì te lo scordi in più parlando anche della proliga appunto non è obbligatorio ci deve star bene sul fisico e considerate che fare il vacuum impedisce leggermente di sfiancare occhio occhio ma perché se ci pensate un Cristian Zagarella gambe a terra nella doppia bicipita ma perché perché offre il vacuum se lui dovesse andare a sfiancare col vacuum sfido chiunque a farlo quindi anche lì vedi il pose è proprio difficile cioè è proprio anche difficile fisicamente farlo sfiancando se volete anche un boom state quando fa il vacuum comunque è gambe a terra qualosamente non è che si sfianca e fa anche il vacuum Zain riusciva a farlo per esempio my friend Zain cioè fare il vacuum e sfiancare è qualcosa di natura anche perché sto leggendo ultimamente negli ultimi mesi corsi di vacuum capite la stupidità dell'idea nel senso ci sono delle scuole di respirazione anche certificate a livello mondiale che insegna a fare i vacuum saluta in Brasile però bisogna avere non è il discorso arrivare a farlo anche gente non predisposta come può essere un macco anche me facendo queste scuole di respirazione col vacuum si arrivi a farlo ma può darsi che poi fai cagare col vacuum e dato che è una gara in cui si valuta l'estetica non è che tu fai il vacuum o che è il bello punteggio no se ci stai male sei fregato ovvio che sei andato in vitita e dovete saperlo fare quindi lì ha un senso esercitarsi sul vacuum quello è sicuro cioè la Pessina per esempio ha un vacuum coach cioè che le dà proprio le routine da fare per migliorare quello che è il vacuum eccetera però me lo diceva la Federica la Fede mi diceva che lei è proprio un vacuum coach addirittura che appunto tu dicevi che in Brasile ci sono questi corsi e la Pessina ha esatto però faccio il caso Marco quando mi vedi una Pessina ha delle spalle della Madonna io vedo delle ragazze per esempio senza seno quindi col seno molto piatto è molto tra virgolette con un po' di spalle fanno il vacuum sta all'alto non sembra un po' erato capito quindi anche lì ok appunto un vacuum coach ma anche lì tutta il coach ecco perché la comunicazione è dire ok bella brava ma non lo fare con me fondamentalmente fondamentalmente e lei lo fa proprio non tanto perché ovviamente non lo sfoggia mai sul palco ma proprio per una questione di trattenere lo stomaco sì in section loro stanno molto spesso in categorie estetiche le bikini anche stanno leggermentissimamente in vacuum per accettuare un po' affilare sì esatto affilare ma proprio leggermente leggermente infatti secondo me allenare il vacuum ci sta anche per chi magari non è estetico facendolo però ci sta perché automaticamente ti aiuta proprio a controllare lo stomaco anche di più quando sei sul palco perché comunque tu sei abituato assolutamente sì è tutto il lavoro diaframmatico è diverso è molto diverso da indurire l'addome è una cosa completamente differente è un discorso di lavoro diaframmatico eccetera quindi in realtà io ad esempio il vacuum lo faccio fare un sacco di ragazzi non agonisti che hanno difficoltà nella midsection anche quando hanno gonfiore anche i ragazzi glielo inserisco molto nel post gara quando iniziano a prendermi tanto peso per avere più controllo della midsection per il lower back pain o lower back pump esatto perché là logicamente lavorare sulla postura ti fa tanto esatto però per esempio Brian Hasley che è stato il mistero olimpio per due anni di fila adesso poi ha perso l'ultimo contro Boomstead non ha mai avuto il vacuum adesso sta provando anche lui a fare un accenno di vacuum ma lui quando ha vinto il mistero olimpia in entrambi non ha mai fatto vacuum eppure era mostruoso lo stesso perché Brian Hasley è assurdo per chi non lo sapesse appunto è stato mistero olimpia nel 2017-2018 ed è fantastico questo ragazzo un ex bodybuilder che però ecco lui per esempio si è adattato molto al classic infatti tanti dicono sì vabbè il classic per i veri bodybuilder tra virgolette bodybuilder o school ho visto molti commenti anche da parte di ex professionisti comunque ex bodybuilder open quindi quelli veramente grossi ok specialmente del passato denigrare un pochino quello che era appunto la categoria classic perché dicono sì vabbè però piace vincere facile andate nei classic perché siete dei bodybuilder andate nei classic e vincere facile niente di sbagliato e mi sorprende che a dirlo siano comunque delle persone che nel bodybuilding ci nuotano tra virgolette ci nuotano da decenni quindi dovresti poi anche tu saperlo che teoricamente se vai nel classic devi essere portato vincente per fare il classic non è che perché nel bodybuilding non sfondi allora vai nel classic e vinci cioè Brian Hasley è un ex bodybuilder ma nel classic è stato il mister olimpia due volte non è stato una fiera di paese cioè occhio assolutamente non è così semplice senza allargarci sul discorso dell'olimpia rimandiamo al prossimo episodio che ci abbiamo pronostici ci abbiamo pronostici è vero sì abbiamo fatto quasi due ore quindi io direi chiudiamo qua col classic chiudiamo qua col classic e ci vediamo per registrare i pronostici olimpia yes yes dai dai va bene quindi per settimana prossima vi facciamo uscire yes assolutamente ok dai andiamo a studiarci sarà da divertirsi grazie come sempre ragazzi grazie mille a voi grazie a tutti speriamo a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti